Saturnino Salustio. Gli studiosi sono d'accordo nell'identificare Salustio con Saturnino Salustio II, che viene elevato da Giuliano nel 361 d.C. alla carica di prefetto d'Oriente, e al quale Giuliano tra l'altro è dedicato il discorso ad Elios Re. Il trattato di Salustio sugli dèi e il mondo, rientra con ogni probabilità nella cornice della politica di restaurazione del politeismo pagano, una politica propiziata e difesa da Giuliano, ed è una specie di manifesto della fede politeistica, o se si preferisce, un catechismo degli articoli fondamentali del politeismo. Lo scritto, la cui chiarezza e la cui lucidità sono impressionanti, rappresenta un enorme sforzo di purificazione delle credenze pagane in maniera tale da renderle competitive e antagonistiche rispetto alla religione cristiana. La massima parte delle idee illustrate nel trattato di Salustio sugli dèi e il mondo non sono in verità molto originali. In alcuni aspetti però Salustio, per via della rivalità con la concezione cristiana, sviluppa alcune tesi innovative. Ad esempio Salustio dice che la provvidenza esiste per i popoli, per le città, eppure per l'uomo singolo. In relazione all'origine del male, Salustio dice che nulla è male per sua natura. Le cose divengono malvagie per le azioni degli uomini, o meglio, di alcuni uomini. E poi, dice Salustio, il male non è compiuto dagli uomini per sé. Il male è compiuto dagli uomini da che si presenta falsamente sotto il sembiante di un bene, come già in qualche misura aveva insegnato Socrate secondo la dottrina che va sotto il nome dell'intellettualismo socratico. Dottrina in coerenza della quale, diceva Socrate, gli uomini commettono il male semplicemente perché lo scambiano per il bene e dunque si illudono di compiere il bene mentre stanno facendo il male. Dunque, dice Salustio sulla scorta di Socrate, i mali si originano sempre solo a causa di una falsa valutazione dei beni. La conoscenza dell'esistenza degli dèi per Salustio, come per tutti i neoplatonici, è naturale. L'ateismo viene in tal guisa considerato alla stregua di un castigo. Queste le parole di Salustio in Sugli dèi e il mondo. Non è infine inverosimile che anche l'irreligiosità costituisca una forma di castigo, dato che è ragionevole supporre che quanti, in una vita anteriore, ebbero modo di conoscere gli dèi ma non li tennero nel debito rispetto, siano privati in una vita successiva anche del privilegio della conoscenza degli dèi. Così come era necessario che Diche, giustizia, facesse precipitare lontano dagli dèi veri quanti onorarono i propri re come dèi. I demoni, dice Salustio, non sono i soli a punire le anime. È anche l'anima stessa che dà a seme desima il proprio castigo. In tal guisa Salustio recupera la dottrina della metempsicosi o reincarnazione che dir si voglia. Così scrive sempre nel trattato Sugli dèi e il mondo. Si può dedurre la trasmigrazione dall'osservazione dei difetti congeniti. Perché mai altrimenti alcuni verrebbero al mondo ciechi, altri storpi, altri ancora menomati nell'anima stessa? Così come dall'osservazione che le anime, che sono atte per natura reggere un corpo, non possono, una volta saltate fuori da quello, restarsene a poltrire per l'eternità. Queste sono le conclusioni che troviamo nel trattato di Salustio già citato sugli dèi e il mondo. Felici sotto ogni rispetto e in particolare separate dall'anima irrazionale eppure da ogni contatto corporeo, le anime che abbiano vissuto secondo virtù si uniscono agli dèi e reggono con quelli il mondo intero. Ma anche se nulla di tutto ciò fosse vero, senza contare il piacere e la gloria, che da quella discendono insieme a una vita priva di cruce senza servitù, la virtù stessa basterebbe da sola a rendere felici quanti scelsero di vivere secondo virtù e ne furono capaci. Insomma Salustio con la sua opera prova a dare vigore alla restaurazione del paganesimo in funzione anticristiana. Il suo programma di ricerca è perfettamente in sintonia con lo spirito dell'imperatore Giuliano, che non per caso definisce Salustio, uomo da annoverare fra i più illustri dei greci. Il trattatello sugli dèi e il mondo, composto nel 362 d.C., è da subito diventato una sorta di catechismo ufficiale della restaurazione pagana. Salustio vi fissa, in una sintesi esemplare, i contorni basilari della religione olimpica, i suoi simboli fondamentali, le sue grandiose figure e non in ultimo la sua preferibilità rispetto al cristianesimo ormai dilagante. Va detto che Salustio è un cultore della letteratura e della filosofia, addirittura trascura a volte i propri uffici per coltivare i propri studi. Proprio a Salustio attribuita la composizione del testo già più volte citato, gli dèi e il mondo, in greco perizion kai kosmo, una sorta di catechismo ufficiale dell'ultimo paganesimo. Come già abbiamo sottolineato, la massima parte delle idee esposte in questo trattatello non sono affatto originali, ma sono desunte da altri filosofi neoplatonici, come pure dalle orazioni dello stesso Giuliano, in particolare la quinta e la settima, anche se Salustio sembra avere meno di mistichezza con Giamblico, considerando la sua demonologia meno sviluppata. Certo vi sono anche, come già detto, elementi originali nel pensiero di Salustio, ma in ultima istanza possiamo dire che il suo merito è quello di aver riproposto tesi vecchie con un obiettivo nuovo, quello di contrastare il cristianesimo riproponendo un ritorno alla paganitas, ritornando cioè alla religione pagana e politeistica.